segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te alessio abbiamo dato conto in chiusura del blocco precedente con l'onorevole minniti di questo post di questo contenuto che è apparso sul blog di beppe grillo a firma dell'ex ambasciatore italiano in tanzania rabbia saurita tra gli altri torquato cardilli il titolo è dalle bombe alle canzoni anche il dolore fa spettacolo viene criticata in modo molto aspro la comunicazione di zelensky la partecipazione al festival di sanremo viene citato in ballo anche un nostro collega e poi la conversazione anzi il dialogo del del post si sposta su questi toni come si fa a dare fiducia e credito un capo di stato che da un anno collegato dal suo bunker partecipa ad ogni consesso internazionale proclamando guerra fino alla vittoria finale assiste impassibile alla distruzione del suo paese all'emigrazione di milioni di cittadini condanna la miseria gli scampati ai bombardamenti bisognerebbe consigliargli di cominciare un rosario di scongiuri visto la fine che hanno fatto capi di stato che hanno concesso altrettante analoghe interviste e quindi la sintesi è attento zelensky fa la fine di saddam che vengono infatti come citati come esempio il terzo polo chiede di smalcarsi ai 5 stelle io infatti voglio dire questo che intanto non chi è che chiede la senatrice maria stella gelmini del terzo polo sì non accorgo l'invito alla censura nell'autocensura perché il blog di beppe grillo ospita dei contributi di autorevoli anche esperti stiamo parlando di un ex funzionario o non so se tuttora funziona il ministero degli esseri un ex ambasciatore ex ambasciatore che esprime un suo pensiero in un articolato e molto lungo molto lungo articolo che io invito tutti a leggere dall'inizio alla fine per farsi un'idea di quali di quale sia il suo pensiero io condivido la parte in cui lui di fatto dice che non si arriva alla pace con la guerra civis pace parabellum noi non la condivido e condivido quando lui dice stiamo attenti no 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 ma guardi nessuno ha mai chiesto la posizione del movimento cinque stelle è sempre stata molto chiara c'è la difesa c'è la resa no e allora la comunità internazionale che cosa ci sta a fare cioè è troppo semplicissima questa conclusione scusi ma paragonare Zelensky a Saddam e a Gheddafi avvertirlo che farà la fine di lui fa un ragionamento parlando di due persone diciamo che non mi sembra che come profilo possono essere assimilate è un accostamento è un accostamento totalmente improprio però rispetto al seguito dell'articolo quando manifesta le sue preoccupazioni rispetto all'eventuale scoppio di una guerra nucleare io quella parte allora per l'onorevole baldino l'invito della gelmini a dissociarsi non ha funzionato io non accorgo l'invito alla censura quando dice quello che abbiamo letto è inaccettabile io inaccettabile ci sono anche tante altre cose che leggiamo quotidianamente io invito tutti invece a leggerselo per farsi un'idea di quello del pensiero reale che spime l'ambasciatore